Si è tenuto all'interno dei locali della parrocchia San Marco un incontro tra i residenti del quartiere Balate Pinzelli e il sindaco Ruvolo per affrontare le tante problematiche presenti in uno dei quartieri più popolosi della città. Tanti residenti che hanno partecipato alla riunione e che hanno sollevato parecchie criticità nell'attesa che l'amministrazione possa intraprendere azioni concrete per il quartiere, che al momento conta circa 16.000 residenti. Oltre al sindaco Ruvolo erano presenti gli assessori Pastorello, Centorbi e Falci. Le richieste diciamo che sono sempre le solite, quelle che abbiamo presentato da una vicina di anni a questa parte. Però questa sera li vogliamo trattare in maniera diversa, nel senso che chiediamo delle risposte precise. Anche se è necessario trattare argomento per argomento su tavoli tecnici e tavoli tematici in maniera tale che si possano portare alla risoluzione. Noi vorremmo che si valorizzasse quello che abbiamo e che si completassero le cose che sono state fatte da una ventina d'anni a questa parte, dagli anni 70 in poi, gli anni 80 in poi e che non sono state completate. Valorizzare quello che abbiamo che cosa significa? Noi, io l'ho detto nella relazione, noi abbiamo nel nostro comprensorio, abbiamo la piazzetta della Repubblica, quella dove c'è l'ancora per intenderci, che dovrebbe essere messa in sicurezza e tenuta pulita, consentire alla gente di andare a passeggiare in maniera tranquilla. Chiediamo di valorizzare l'impianto sportivo di Portella della Ginestra, che ci risulta che in questo momento non c'è più nemmeno il custode. Come per esempio valorizzare la Villa Monica, era praticabile, la gente ci andava volentieri, i bambini avevano un posto dove poter sviluppare alcune idee, sviluppare alcune cose. Oggi è chiusa, la mantengono pulita, la vanno a pulire però è chiusa. E ci sono tante altre cose che dovrebbero essere fatte per valorizzare il comprensorio. Le cose che dovrebbero essere completate, la via Parri, la via Romita, il parco Balade, tutte cose di cui si è parlato sempre, ma non si è mai arrivato a una conclusione. Dunque io il randaggismo, ho detto pure nella relazione, che lo voglio trattare in termini diversi, in termini sociali, perché il randaggismo ormai è diventato un problema cronico, che sta portando a rotta di collisione la gente, chi ama i cani e chi non ama i cani, non parlo degli animali in generale, ma chi ama i cani e chi non ama i cani. E allora si dovrebbero creare delle zone dove i cani potrebbero avere tutto lo spazio necessario e tutto lo spazio che vogliono e chi ama i cani poterli gestire in quegli spazi e chi non ama i cani non andare in quegli spazi.